La Sacra Corona Unita è un'organizzazione criminale italiana di natura mafiosa con il suo epicentro in Puglia, prevalentemente attiva nel Salento e che ha stabilito accordi criminali con organizzazioni del crimine dell'Europa dell'Est. La sua peculiarità emerge in modo distintivo, distinguendosi dalle altre mafie italiane. Il periodo di massimo splendore si è verificato tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta del ventesimo secolo. Dopo l'intervento dello Stato e numerosi arresti, l'organizzazione è stata indebolita e marginalizzata. Successivamente, a partire dagli anni Dieci del ventunesimo secolo, ha adottato una strategia di mimetizzazione e infiltrazione nel tessuto imprenditoriale, cercando di guadagnare consenso a tutti i livelli della società. Il nome di questa organizzazione ha le sue origini nella tradizionale cultura mafiosa. Sacra, poiché al momento dell'affiliazione il nuovo membro è battezzato o consacrato. Corona, in riferimento all'uso del rosario nelle processioni. Unita, a ricordare la forza di una catena composta da numerosi anelli. A partire dagli anni Cinquanta, la Puglia, come altre regioni d'Italia, fu designata come area per il confino obbligato di pericolosi criminali appartenenti a Cosa Nostra, alla Ndrangheta e alla Camorra. Nel 78, la Guardia di Finanza avviò un'offensiva decisa contro il contrabbando di sigarette a Napoli. Di conseguenza, le organizzazioni contrabbandiere campane trasferirono tale traffico, insieme a quello di armi e eroina, lungo le coste pugliesi di fronte alla Jugoslavia e all'Albania, principali centri di smistamento per queste merci illegali. In questo contesto, il traffico di droga divenne anch'esso un'attività di rilevanza. I clan pugliesi inviavano eroina verso il nord Italia e la distribuivano nelle piazze dello spaccio della Lombardia, Veneto e Toscana, dove vi erano migliaia di tossicodipendenti. Nell'81, il boss camorrista Raffaele Cutolo incaricò Pino Iannelli e Alessandro Fusco di istituire in Puglia un'organizzazione direttamente derivata dalla nuova camorra organizzata, chiamata Nuova Camorra Pugliese. A questa si unirono anche i boss tarantini, Aldo Vuto e Antonio Modeo. Questa associazione si radicò principalmente nel Foggiano e nel Tarantino a causa della vicinanza geografica e dei contatti preesistenti tra esponenti della malavita locale e i camorristi campani. Nel Salento, invece, tali tentativi di infiltrazione trovarono resistenza da parte della malavita locale, culminando nell'omicidio di Remo Morello, un pregiudicato leccese che si opponeva ai napoletani. In risposta al tentativo di Cutolo di espandersi in Capitanata, la Endrangheta diede vita alla Sacra Corona Unita, un'associazione criminale di stampo mafioso formata da esponenti locali. Si dice che sia stata fondata la notte di Natale del 1981, ma altre fonti indicano come data di fondazione il 1 maggio 1983. In questa data Giuseppe Rogoli, detto Pino, affiliato al clan della Endrangheta Bellocco di Rosarno, ottenne il permesso dal capo bastone Umberto Bellocco e fondò la prima Endrina pugliese all'interno del carcere di Bari, dove era detenuto. In risposta alla formazione della SCIU, nel carcere di Pianosa nacque la famiglia Salentina Libera, fondata dal detenuto leccese Salvatore Rizzo con propri riti e statuti, il cosiddetto Codice Salentino, che rivendicavano l'indipendenza dei criminali salentini da qualsiasi organizzazione criminale esterna. A causa della detenzione di Rogoli, Antonio Antonica fu nominato responsabile unico delle attività illecite nell'area a Brindisina. Antonica ebbe anche il compito di nominare alcuni capi zona della provincia di Brindisi. Con le prime scarcerazioni, il numero degli affiliati aumentò e ognuno pretendeva la sua parte di guadagno. Antonica sentiva il peso dell'organizzazione sulle sue spalle e entrò in conflitto con Rogoli perché rifiutò di trafficare droga. Di conseguenza, Antonica preferì abbandonare Rogoli e creare un clan opposto. Questo segnò l'inizio di una guerra lunga tre anni, caratterizzata da conflitti e tradimenti che portarono alla sua uccisione nell'89 presso l'ospedale di Mesagne, dove era ricoverato per un precedente attentato. Nel 1986, il gruppo criminale barese guidato da Savinuccio Parisi e quello di Giosuè Rizzi e Pino Iannelli, indispettiti con Pino Rogoli a causa delle sue franche ammissioni nel processo in cui erano imputati a Bari, si staccarono dalla Sacra Corona Unita e divennero autonomi. Iniziò la rifondazione della Sacra Corona Unita con nuove modalità di affiliazione, caratterizzate da regole più rigide e severe. Così, nel carcere di Trani, nacque la nuova Sacra Corona Unita, il cui statuto fu firmato oltre che da Rogoli, anche da Vincenzo Stranieri di Manduria, Alberto Lorusso, futuro boss di Grottaglie, e Mario Papalia, tarantino legato a Cosa Nostra. Nell'87 la NSCU era composta dalle famiglie più rappresentative del Brindisino e da alcune ramificazioni nella provincia di Taranto. A lungo andare, proprio il gran numero di cosche contribuì a un altro periodo di tensioni all'interno dell'organizzazione, tra Brindisini e Leccesi. Il fronte Brindisino della Sacra Corona Unita, con Salvatore Buccarella e Giovanni Donatiello, dimostrò negli anni una maggiore compattezza, finché non fu colpito da una pesante offensiva giudiziaria. Dopo la rifondazione, la Sacra Corona Unita era presente nelle città delle province di Brindisi e Taranto. Mesagne, Oria, Ostuni, Carovigno, Torre Santa Susanna, Latiano, Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Villa Castelli, città dove aveva membri importanti, Grottaglie, Lizzano, Crispiano, Manduria, Pulsano e San Marzano di San Giuseppe. Negli anni 90 la città di Brindisi guadagnò il soprannome di Marlboro City a causa dell'ampio traffico di sigarette di contrabbando provenienti dal vicino Montenegro. Numerosi capi della criminalità organizzata, appartenenti alla SQ, si erano trasferiti in questa zona per sfuggire alle autorità e avevano sfruttato l'occasione per stabilire nuovi canali di approvvigionamento di sigarette e droga. Il punto culminante si ebbe nel maxiblitz con centinaia di arresti ordinati dal giudice istruttore di Lecce, Vincenzo Taurino, nella notte del 16 giugno 1989. Seguì il maxiprocesso contro De Tommasi Giovanni, conclusosi nel 91, quando la corte d'assise di Lecce condannò numerosi esponenti dell'organizzazione e riconobbe la SQ come associazione di stampo mafioso. L'operazione Salento, svoltasi da maggio a novembre del 95, con la partecipazione di 1700 soldati dell'esercito italiano, ebbe l'obiettivo principale di contrastare l'immigrazione clandestina, ma ebbe risultati positivi anche nella lotta alla SQ. Le pene inflitte agli affiliati furono severe, portando quasi alla decapitazione dell'organizzazione. Con l'operazione Primavera, condotta in Puglia nel 2000, si pose fine quasi definitivamente al contrabbando di sigarette e generi di monopolio, rendendo tale attività marginale se non inesistente. Le azioni di contrasto alla Sacra Corona Unita perdurano fino ai giorni nostri, relegando l'organizzazione ai margini del panorama mafioso italiano ed internazionale. Negli ultimi anni sono emersi nuovi personaggi, caratterizzati da soprannomi coloriti, i quali hanno concentrato le loro attività criminali sul racket, il contrabbando di sigarette e la droga. Alcuni di loro hanno fondato la Sacra Corona Libera. Recentemente alcuni membri di spicco della S.C.U. hanno deciso di collaborare con le forze di polizia italiane, determinando l'arresto di alcuni esponenti dell'organizzazione. Nel 2002, il presidente della Repubblica del Montenegro, Milo Giucanovic, fu indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Bari per associazione mafiosa finalizzata al traffico internazionale di sigarette di contrabbando, a causa di presunti legami con alcuni boss della S.C.U. latitanti in Montenegro. Le accuse furono archiviate definitivamente a causa dell'immunità diplomatica riservata ai capi di Stato. Secondo la direzione investigativa antimafia, la criminalità organizzata pugliese attuale si presenta disomogenea, con molte consorterie attive, diversificate nell'intrinseca caratura criminale e non correlate da architetture organizzative unificanti. Nel 2008, Peppino Basile, consigliere provinciale dell'Italia dei Valori, impegnato in denunce costanti sulle infiltrazioni mafiose a Ugento, fu assassinato. Il candidato mafioso è condotto dagli altri membri in una stanza dove sono collocati vari oggetti simbolici. Un pugnale, una pastiglia per il suicidio in caso di tradimento, un fucile a rappresentare la punizione per il traditore, un limone per la guarigione delle ferite e un batuffolo di cotone, leggendariamente associato al Monte Bianco, luogo sacro. Con il pugnale, il neofita viene ferito su dito o braccio e il sangue viene fatto scorrere su una immagine sacra dell'arcangelo Michele, poi bruciata mentre pronuncia un giuramento. Il primo grado è la picciotteria, seguito da camorrista, sgarrista, santista, evangelista, trequartista, medaglione e medaglione con catena della società maggiore. Questi gradi riflettono chiaramente la matrice indranghetista. L'organo direttivo è guidato da Giuseppe Rogoli e dai suoi più fidati, costituendo la coppa, il cuore della corona, simbolica dell'associazione. In una operazione contro i clan mercante di Omede e capriati di Bari nel giugno 2018 è emerso l'utilizzo di tali riti. Otto medaglioni con catena compongono la società segretissima, che sovraintende un corpo speciale noto come la squadra della morte. Va sottolineato che questa piramide di ruoli ha principalmente un significato simbolico. Spesso il potere effettivo detenuto dall'individuo affiliato non corrisponde alla sua posizione nella gerarchia formale. Le faide, la faida del brindisino. Negli anni dall'89 al 91 si scatenò nel brindisino una faida con l'obiettivo di eliminare i criminali che rifiutavano di sottostare alla Sacra Corona Unita per ottenere il totale controllo di numerose attività illecite, in particolare il contrabbando di sigarette. Il conflitto provocò una media di oltre 100 morti, tra cui Antonio Antonica, braccio destro di Rogoli, ed Emanuele Rogoli, fratello di Pino. Questa faida fu identificata come una delle principali cause dell'indebolimento dei clan nell'intera area del brindisino, guidata all'epoca dal clan Buccarella di Tuturano, la faida nell'Eccese. La faida si svolse tra l'88 e il 2002, scaturita dal deterioramento dei rapporti tra il boss Antonio Dodaro e i suoi fedelissimi, tra cui Giovanni De Tommasi e Mario Tornese, a causa della pace siglata nel carcere di Lecce, tra Pino Rogoli e la famiglia Salentina Libera, guidata dal boss leccese Salvatore Rizzo e dal cognato Pantaleo De Matteis, che cambiarono nome in Nuova Famiglia Salentina. L'opposizione si manifestò nell'assassinio brutale di Dodaro, sua moglie e suocero, nella loro abitazione a Galugnano. Lo stesso anno si registrarono 126 omicidi e tentati omicidi nella provincia di Lecce. Inizialmente la faida coinvolse i clan De Tommasi e Vincenti di Surbo, affiliato alla Nuova Famiglia Salentina, seguiti da conflitti all'interno dello stesso clan De Tommasi tra il gruppo Toma Cerfeda e Pellegrino Presta Vincenti. Nel 2002, durante una sparatoria in un bar di frigole, Lecce, per colpire un membro del clan Vincenti, una bambina di due anni rimase ferita. La faida del Sud Salento. A partire dal 2010, la Sacra Corona Unita del Sud Salento prosperò con lo spaccio di cocaina nelle numerose località balneari durante l'estate. L'afflusso di denaro derivante dal traffico di droga generò tradimenti interni ai clan. Ne furono vittime il boss storico di Gallipoli, Salvatore Padovano, detto Nino Bomba, ucciso dal fratello Rosario Padovano, e Augustino Potenza, boss di Casarano. Nel 2018, Melissano fu teatro di due omicidi di mafia, causando la morte di Manuel Cesari, crivellato di colpi davanti a un fast food della cittadina, e Francesco Fasano, ucciso con un colpo alla testa e abbandonato per strada. Mattia Capocelli fu vittima di un agguato a colpi di pistola a maglie. Nel corso dell'anno, un tentato omicidio sconvolse di nuovo Casarano, in cui la vittima, Antonio Amin Afendi, compagno della vedova di un boss, riuscì miracolosamente a sopravvivere a un agguato in cui furono sparati diversi colpi di Kalashnikov, ferendo Afendi al collo e a una spalla mentre si trovava in auto. Ecco di seguito le divisioni interne dell'organizzazione. La società foggiana rappresenta un cartello criminale di natura mafiosa con legami alla Sacra Corona Unita, centrato nella città di Foggia e interconnesso con organizzazioni criminali come la mafia siciliana, la Camorra e la Andrangheta. A causa della sua vicinanza alla Campania, il territorio foggiano è stato influenzato dalla Camorra e dalla defunta nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo. La criminalità, organizzata in batterie, Sinesi Francavilla, Mansueto Triscioglio Principe, Moretti Pellegrino Piscopia, ha manifestato una costante evoluzione, aggregando tutte le manifestazioni emergenti del territorio. Si è infiltrata nelle aree costiere circostanti, imponendo progressivamente i propri interessi illeciti nei settori terziario e delle costruzioni, in particolare assumendo il controllo del settore delle onoranze funebri. L'organizzazione mafiosa operante a Bari e nella sua provincia, la Camorra barese, è da distinguere dalla Camorra Napoletana. Composta principalmente da confederazioni tra clan, mantiene le attività principali focalizzate su reati legati agli stupefacenti, contrabbando e distorsioni. Tra i clan più rilevanti figurano gli Strisciuglio e i Telegrafo nel quartiere San Paolo, il clan Parisi nel quartiere Giappigia di Bari, guidato dal noto boss Savinuccio Parisi e Tonino Capriati, clan Sgominato, operante a Bari Vecchia, di Omede nel quartiere Libertà e gili emergenti Lorusso e di Cosola a Carbonara. Il clan Strisciuglio esercita il suo dominio su Bari ed intorni, guidato da Domenico, la Luna Strisciuglio. L'organizzazione si propone di conquistare territori per imporre il proprio potere su spazi economici sempre più ampi, con una crescente attività di sopraffazione violenta. Questa organizzazione nacque nel 1997, con la dissoluzione delle famiglie mafiose, dei di Cosola e la Raspata, a seguito dei Blitz, Conte Ugolino e Maier, nonché del conflitto con il clan Capriati. La guerra sanguinosa tra gli Strisciuglio e i Capriati, culminata con l'omicidio di Giuseppe Capriati da parte degli Strisciuglio, ha portato a un escalation di violenza per le strade di Bari, causando la perdita di vite innocenti come quella di Michele Fazio. La vittoria finale è stata dei Capriati. Nell'87 Rogoli affidò a Oronzo Romano e Giovanni Dalena la creazione di un'altra andrina propagine della Sacra Corona, unita nel sud barese, chiamata La Rosa, con il consenso della Ndrangheta per controllare il traffico di droga nella zona. L'ascesa di questa nuova organizzazione è collegata all'omicidio di Ottavio Santonastasi, il boss in contrastato della zona di Monopoli che si opponeva alla crescente presenza di questi nuovi criminali. La Rosa è stata smantellata nell'89 grazie alle indagini del giudice istruttore Alberto Maritati, che ha portato all'arresto e al processo dei suoi affiliati. La Sacra Corona Libera è stata fondata nel 98 da Massimo D'Amico, Antonio Vitale e Massimo Pasimeni, criminali mesagnesi precedentemente appartenenti alla Sacra Corona Unita. Questa organizzazione è nata a seguito di contrasti con Salvatore Buccarella e Francesco Campana, vertici della SCU ancora fedeli a Pino Rogoli, e presenta alcune differenze, come l'uso di minorenni come manovalanza e l'abolizione dei riti d'iniziazione. Oltre a Mesagne, è presente anche nei comuni di Villa Castelli, Cellino San Marco, Latiano, Torre Santa Susanna e Francavilla Fontana. La collaborazione con la giustizia di Massimo D'Amico e successivamente quella di Ercole Penna, altro criminale mesagnese, nel 2010, hanno portato allo smantellamento dell'organizzazione. La Rosa dei Venti ha preso forma nel carcere di Lecce nel 90 grazie a Giovanni De Tommasi, Cosimo Cirfeta e Vincenzo Stranieri, i quali hanno richiesto il permesso alla Ndrangheta di separarsi dalla Sacra Corona Unita a causa di contrasti con Basile. Questa nuova organizzazione è diventata operativa a Campi Salentina, Manduria, Salice Salentino, Surbo, Veglie, Copertino e Taranto, ma è stata immediatamente smantellata a seguito di numerosi arresti effettuati dalle forze dell'ordine grazie alla collaborazione con la giustizia di Cosimo Cirfeta. Ringraziamo tutti voi per averci accompagnato in questo viaggio nel cuore oscuro della storia della Sacra Corona Unita. Speriamo che questo racconto vi abbia fornito una prospettiva più approfondita su una delle organizzazioni criminali più potenti e complesse al mondo. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un like, condividere e iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su nuovi avvincenti approfondimenti e racconti sul lato oscuro della società. Se avete domande, commenti o suggerimenti per futuri video lasciateceli nella sezione commenti. Continuate a seguirci per esplorare insieme le molteplici sfaccettature della storia, della cultura e della realtà che ci circonda. Ci vediamo al prossimo video. Questo è Nero su Bianco.